Salve a tutti Nerers e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi ho questo cappellino molto bello, come vedete. Purtroppo mi sta un po' stretto perché ho la testa enorme. Questo cappellino però è un regalo da parte di Ubisoft perché dovete sapere che qualche giorno fa ho provato, anzi Eren ha provato, e io come Edselb Nere ne ho raccolto i frutti e li sfrutto nel video, provato appunto South Park Scontri Diretti. Proprio in quell'occasione mi hanno dato il cappello e non solo, ho fatto anche un vlog dove ne parlavo velocemente, ma uscirà dopo questo video perché sapete, singolarità, quindi distorsioni, spazio-temporali e tutto è distorto. Ma insomma ragazzi ho provato questo gioco e volevo oggi insieme a voi andare a parlarne e a vedere, perché l'ho già giocato, ma riguardiamo insieme, tipo reaction, il montaggio del gameplay che ho fatto perché è stato davvero folle. Allora, ovviamente siamo partiti dalla creazione del personaggio, è customizzabile in tanti modi, vestiti, barba, capelli, tutto quanto. La parte iniziale, tra l'altro mi sono dimenticato di mettere le cuffie, l'abbiamo dovuta saltare perché non si poteva mostrare. Il gameplay iniziava con lo scontro con questi tre ragazzi delle medie. Questo scontro è stato necessario per andare nella parte di città oltre dove abbiamo fatto le missioni, la quest principale, le missioni secondarie. E qui possiamo subito vedere il sistema di combattimento. combattimento, ragazzi, è praticamente un GDR a turni. Ogni personaggio ha i suoi attacchi. Lavora a turni, ci sono effetti di stato, ci sono valori di velocità, di potenza degli attacchi ed è incredibile quanto sia tecnico nonostante, tipo, questo qui sta riempiendo un pallone di piscio per lanciarlo contro gli altri. E intanto vomita perché ha inalato il peto del mio personaggio e quindi è tipo sconvolto da questa cosa. Raggi laser dagli occhi, casini vari, incredibili, provocazioni con il dito medio. Il sistema di combattimento è davvero ben sviluppato. Però è tutto fatto comunque nell'ignoranza tipica di South Park e quindi cose schifose, tipo scaccolamenti, tipo sputi in faccia. Anche oggetti consumabili, che questa sembra una borraccia di, tipo, Gatorade, che gli ha dato per risanarlo. Insomma, dopo aver lottato un bel po', abbiamo sconfitto questi tre ragazzi delle medie e abbiamo sbloccato il resto della mappa. Fatemi sapere se questo gioco vi piace, perché magari più avanti ne potrei portare i dei gameplay. Questa è un'anteprima, ragazzi. Quindi, mettendo la facecam dopo averlo giocato qualche giorno fa. Andando avanti poi ho ritrovato quelli delle medie, che questa volta ce l'avevano arati, però ho avuto occasione di provare la mossa finale di Super Craig, che è il personaggio del cappellino, che semplicemente lancia il suo porcellino d'inghia contro l'avversario. Passando alle missioni, la prima missione che sono andato a fare mi ha sconvolto e mi ha scandalizzato. Dovete capire che questo gioco è politicamente scorretto ed è una cosa che a me piace un sacco, perché in questo gioco sono tutti uguali. Etnia, religione, sesso, qualsiasi cosa, sono tutti uguali nel bene e nel male, ma soprattutto nel male. Quindi tutti saranno presi di mira e saranno perculati all'interno di questo gioco. Pertanto la prima missione si teneva in chiesa. Voi sapete benissimo gli stereotipi che ci sono sulle chiese, i bambini, non siamo qua a parlarne. E ci sono delle cose che qua non posso neanche farvi vedere, perché ragazzi vi tirano giù il video, però vi giuro che eravamo lì, che la gente soffocava mentre provava questa parte. Allora, praticamente il reverendo ci dice, tu devi affrontare le tue paure. Entri in questa stanza buia, dove potrai riflettere, affrontare le tue paure e meditare sulla strada che vuoi prendere. Ma una volta entrati nella stanza, sono comparsi due lost individui. Sono arrivati loro. E qui ragazzi potete immaginare, ma io non vi dirò nulla. Qua ho censurato l'immagine, perché io non so se si riesce a intendere cosa stava facendo, ma non lo posso mostrare, mi spiace, perché c'è una cosa che proprio su YouTube non è Family Friendly questo contenuto, ok? Alla fine ho sconfitto questi due avversari e il reverendo cosa mi dà? Mi dà una pergamena per evocare Mosè. Tu dici, what the fuck? È una cosa talmente stupida, ma è figo allo stesso tempo, perché sono evocazioni. Cioè, non si fanno mancare niente, abbiamo anche le evocazioni. Solo che se è South Park, tu non evochi il mosto incredibile, ma vai a evocare Mosè. Quindi sono andato a rompere le scatole delle persone a caso per provare questa evocazione, sprecandola tra l'altro inutilmente, perché è un'evocazione curativa, io l'ho utilizzata all'inizio del combattimento, quindi non aveva senso. Ma guardate che spettacolo. Copritevi gli occhi, perché la luce divina vi sta per investire. Poi si vede questa sorta di chiesa futuristica, e lui sarebbe tipo il polto di Mosè che dice, tutti gli schiavi saranno liberati. Poi questo raggio di luce sparato da una chiesa tra l'ebreo e Scientology cura i personaggi, ed è stato super figo. Tra l'altro, gli attacchi sono di diverso tipo, perché non solo vai a colpire, puoi anche creare barriere, difendere, puoi provocare. Ci sono attacchi appunto di stato, come quelli che schifano l'avversario, che è tipo un veleno, e dopo un po' di tempo lui vomita e subisce danno. Cioè, è tutto così, fuori di testa e tecnico allo stesso tempo. La seconda missione bonus, che dici, dopo una cosa così, cosa ti vuoi aspettare? Siamo andati dal consulente scolastico, dallo psicologo, personaggio altamente bizzarro, che mi dice, eh, si diti pure, già vederlo così è tipo, un tipo stranissimo, e inizia a fare domande su qualsiasi cosa. Ma in particolar modo, lui vuole parlare di sesso. Dovevate vedere la mia faccia in questa scena, quando l'ho giocata ero tipo altamente confuso. Praticamente, lui chiede, sei un maschio, una femmina o altro? Cioè, in che modo ti definisci? La libertà di espressione, senza limiti. Quindi, ok, bello, è stato davvero bellissimo. Poi, usciti dalla scuola, arrivano tre big folkie, che dicono, oh, ma guarda quel bambino cisgender. Ora lo picchiamo, perché non importa tu che cosa fai, che cosa ti senti nella vita o che cosa ti piace, in qualsiasi caso sarei discriminato. Quindi, in ogni caso, siamo tutti uguali nel bene, come ho detto prima, ma anche, soprattutto nel male in questo gioco. Quindi è iniziata questa ignorantissima lotta contro questi big folkie. La cosa so che mi fa morire è come li hanno stereotipati. È lui che va a terra e dice, ah, beh, almeno mi ridaranno l'assegno di invalidità, ma perché? Poi li abbiamo tirati giù tutti, ci siamo liberati, ovviamente, di questi big folkie e la missione è finita, così. Dopodiché ho sbloccato anche il viaggio rapido, perché ti puoi spostare col viaggio rapido, grazie a questo supereroe che si chiama Fespas, che tipo mi ha conquistato, è il mio preferito, è troppo tenero. Lui ha evidenti problemi di mobilità, però il suo supereroe è super veloce, cioè è fantastica sta cosa. Infatti poi andiamo a combattere, la cosa bella è i combattimenti, che essendo bambini che alla fine si picchiano in strada, ogni tanto passano le auto, loro si scostano e l'autista li insulta pure, cioè è fantastico. E qui ho potuto usare anche la mossa finale di Fespas, dove lui praticamente dà fuoco l'intera terra per poi arrivare e fare malissimo al malcapitato di turno. Decisivamente più figa di quella di Super Craig, senza dubbio. E abbiamo sconfitto anche questi lost skin di video, questo era un incontro poi casuale che ho fatto a caso per provare il nuovo personaggio, per poi dirigerci all'ultima delle quest secondarie, vale a dire Freeman Tacos. Entrando in questo negozio ci troviamo davanti a Morgan Freeman. Morgan Freeman vende i tacos. E che cosa consiste questa cosa? Praticamente utilizzando alcuni specifici ingredienti tu puoi combinare questi ingredienti e creare un piatto unico, che può essere appunto il tacos burrito, tutte ste robe qui sono elementi consumabili che all'interno della lotta tu puoi utilizzare per curarti per esempio e ristabilire parte della tua salute, come se fosse una pozione diciamo. Quindi è una missione molto rapida questa, per poi andare alla quest principale che dovevamo seguire, la quest di Mosquito. Quindi tutti questi nomi sono i vari supereroi, quello con l'aquilone, non mi ricordo se l'ho detto, è Aquilon Man. Siamo andati quindi attraverso un vicolo in questo locale che si chiama Raisins, dove appunto dovevamo trovare Mosquito, dove ci sono queste cameriere che sono truccate, peggio di Moira Orfei. Pace all'anima sua. Da questa parte il tesoro ci fa accomodare e poi noi troviamo ovviamente Mosquito che è lì che se la spassa con due ragazze, se la mena che è un supereroe. Però che i zanzaroni potessero essere così tosti, hai mai sentito parlare del virus zika? Ti prego, ti prego. Ehi, vattene via, queste sono le mie donne, dice. E poi dice, ah, un supereroe. Ma aspetta, io avevo una missione da seguire. Me ne ero totalmente dimenticato, è colpa vostra donne. Mi state distraendo. Lui dice così. Loro non sanno neanche di cosa sta parlando. E lui adesso vuole andarsene, però non ha intenzione di pagare il conto. Quindi come finirà la storia? Ovviamente a botte. E quindi parte la lotta tra i quattro supereroi e le ragazze The Raisins, dove viene introdotto un altro potere perché le ragazze fanno infatuare in questo caso un moschito, che viene ipnotizzato e in questo modo, anche se il nostro alleato va ad attaccare l'altra parte del campo. Quindi si è voltato contro di noi e attaccava i personaggi che controllavo io, perché era appunto ipnotizzato. Ho cercato di svegliarlo in qualche modo, ma dovevo aspettare che l'effetto scomparisse. E poi sono anche riuscito a... Vabbè, a parte il peto ad area che fa male nell'area circostante, che è una cosa bellissima. Ho utilizzato anche il potere definitivo di Equilon Man. Non ho fatto vedere quello del protagonista, ma semplicemente tira pugna raffica. Equilon Man invece schizza sulla luna quasi e spara il raggi laser sulla terra. Cioè quanto esagerato Itamarro. Facendo anche malissimo questo attacco fatto davvero male. E infatti siamo riusciti a vincere anche questo incontro. Per poi scappare senza pagare il conto. Una volta fatto ciò, Moschito ha iniziato a chiedermi, visto che il suo punto debole sono le donne, quale fosse il mio. Ma io ancora non ne avevo uno. Quindi dovendo scegliere il mio punto debole, ho scelto di mettere gli uomini granchio. Non so perché. Quindi ragazzi, dopo di che ho dovuto concludere la registrazione, la nostra prova è finita. Mi ha fatto molto piacere testare questo gioco perché non avevo provato il primo ed è stata davvero una piacevole sorpresa. È davvero molto divertente. Quindi ragazzi fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Se vi piace, se non vi piace e se vi piacerebbe magari in futuro vedere dei gameplay veri e propri sul canale. Una volta che il gioco sarà uscito ovviamente. Ragazzi, detto ciò, io vi saluto. Spero che vi abbia fatto piacere vedere questa anteprima. Sto cercando di portare un po' di contenuti anche di questo tipo, visto che ho l'occasione nel corso di questo periodo di provare e di portare sul canale appunto dei contenuti in anteprima. Vi aspetto nei commenti. Noi ci salutiamo. Un saluto da Ezza al Benere. Ciao a tutti.